Buonasera, buonasera a te amici spettatori di TV Larizza che mi seguite sempre numerosi tutti i giorni sui social, su Facebook, su TikTok e soprattutto su Youtube perché questi diretti andranno su Youtube. Io come vedete qua c'è una bellissima tavolata, stasera ci sarà un sessantesimo di compleanno, vi posso dire nome e cognome perché non è giusto per rispetto alla privacy io non posso riferire non nome e cognome e non posso fare dirette quando ci sono delle persone qua perché sono persone che non posso non mettere video e non mettere cognome. Io stasera sono qui all'hotel Kennedy, sono a Roccella Ionica, nel cuore di Roccella Ionica, sono nel cuore di Roccella Ionica, nel cuore pulsante Roccella Ionica di Reggio Calabria all'hotel Kennedy, un hotel bellissimo, lussuoso, a 5 stelle, io sono lì nella mia postazione, vedete, nella mia postazione da DJ perché io faccio serate di karaoke, serate musica, discoteca e tutto, sono in quella postazione che stasera ci sarà questa serata. Io adesso questa piccola diretta che farò sono dentro la sala centrale dell'hotel Kennedy perché ora siamo a dicembre, siamo a dicembre, siamo il 3 dicembre domenica 2023 e non siamo fuori come l'altra diretta che ho fatto perché fuori fa freddo, ovviamente fa vento e freddo, non è più cosa di andare fuori. Noi giustamente saremo sì l'anno prossimo in estate, saremo prossimi in estate che in estate giustamente a luglio mangeranno fuori, ci sarà anche matrimoni, tanti eventi, organizzando eventi. Poco fa mi sono preso un bel caffè, poco fa mi sono preso qua un bel caffè, vedete dietro alle mie spalle la macchinetta del caffè e poco fa mi sono preso un bel caffè, buonissimo, 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 qui all'hotel Kennedy è un caffè bello cremoso e pieno di sapore. Allora, io ho detto farò una sketch di piccoli minuti perché questa è la porta centrale, questa è la porta centrale dell'hotel Kennedy, purtroppo in quell'altra zona sono venuto persone a cenare ma io non posso riprendere per rispetto di privacy e quindi la diretta dura poco. Se riesco a farvi vedere uno sketch di due minuti fuori, aspettate se riesco a farvi uno sketch di due minuti fuori, prima che vengono gli invitati vi farò vedere un piccolo sketch di dieci minuti fuori, guardate qua, l'hotel Kennedy che hanno fatto già questo bellissimo albero di Natale, vedete che bellissimo albero di Natale, il più bellissimo albero di Natale che c'è l'hotel Kennedy, guardate, e poi vedete pure fuori che poi giustamente è una piccola diretta perché non posso prolungarmi troppo perché ho la caroga stasera, c'è anche l'illuminaria fuori, l'hotel Kennedy ha fatto anche l'alluminaria fuori, come vedete, se riusciamo poco poco a vedere un po' l'immagine fuori, non posso stare tanto dietro la console, ecco qua, guardate, guardate, stiamo scendo fuori dal Kennedy, sulla stradale 106, ecco, vedete che paradiso, guardate, che paradiso di luce, questa è una bella, ancora non vi ho fatto vedere tutto, perché ovviamente siamo una piccola diretta, questa è una piccola diretta, mi sto facendo solo vedere, mi sto solo facendo vedere la, come si può dire, mi sto facendo vedere solo la crema della crema della dottor Kennedy, perché io devo stare una giornata intera qui, una giornata intera per farvi vedere tutto l'hotel, farvi vedere tutto lo spazio interno dietro, proverò con calma, anche con la telecamera a farvi vedere tutto, noi torniamo nella nostra posizione da DJ, cerchiamo di fare un po' di prove con la musica, e poi giustamente torniamo nella prossima diretta, se riuscirò a fare un'altra diretta, riuscirò a fare un'altra diretta, prossimamente, ok ragazzi, grazie ai numerosi che mi seguite, grazie ai numerosi che mi seguite, e noi ci sentiamo alla prossima diretta su TV, Larissa Siderno, Reggio Calabria, vi auguro una buona serata a tutte le donne.